Stai camminando per strada quando vedi un graffito che attira la tua attenzione. Il futuro cambia il passato ogni giorno. Non capisci bene che significa. Fortunatamente il tuo migliore amico è un grande scienziato, quindi gli invi una foto del graffito che hai appena visto. In meno di 10 minuti il tuo amico Moody risponde Passa dal laboratorio e cercherò di spiegarti che significa. PS potrebbe stravolgerti la vita. Sei una persona curiosa, quindi non ci pensi due volte e ti dirigi verso il laboratorio di Moody. Quando arrivi, Moody ha già predisposto tutto per mostrarti uno degli esperimenti più surreali della meccanica quantistica. Hai mai sentito parlare di correlazione quantistica? Ti chiede. Notando il tuo sguardo confuso aggiunge Te la spiego io. Di solito quando diciamo che qualcosa è correlata o più precisamente intrecciata intendiamo che è in una relazione complicata con qualcos'altro. In meccanica è più o meno lo stesso. Diciamo che abbiamo due particelle create in laboratorio che interagiscono sempre l'una con l'altra. Le chiameremo Rosa e Margherita. Rosa e Margherita sono come due particelle gemelle e il loro comportamento è sincronizzato. Se una si muove verso sinistra, l'altra fa lo stesso. Perché questo esperimento funzioni? Dobbiamo separare Rosa e Margherita. Rosa viene messa in un congelatore e trasportata a Los Angeles mentre Margherita viene impacchettata e portata a New York. Rosa non ha idea di dove si trovi Margherita e viceversa. Non c'è comunicazione tra loro ma in qualche modo se qualcuno tocca Rosa Margherita si comporterà come se fosse stata toccata anche lei. Le due particelle gemelle sono poste in diverse parti del paese non c'è comunicazione tra loro ma se Rosa viene toccata a Los Angeles Margherita sentirà lo stesso istantaneamente a New York. L'espressione sul tuo volto diventa sempre più confusa. Com'è possibile? Chiedi. Beh, per la correlazione, risponde Moody. Per la meccanica quantistica è come se queste particelle si comportassero come dadi magici. Se lanci entrambi i dadi allo stesso tempo ti daranno lo stesso risultato ancora e ancora anche se due completi estranei li lanciassero in due luoghi completamente diversi. Sembra davvero magia. Ma cosa stiamo osservando esattamente? La prima cosa che potrebbe venirci in mente è che sia in atto una sorta di comunicazione istantanea tra le particelle gemelle. Se fosse vero allora uno dei principi fondamentali della fisica sarebbe sbagliato. Se Rosa e Margherita stessero comunicando tra loro dovrebbe avvenire più velocemente della velocità della luce e secondo il nostro amico Einstein è impossibile. Ma c'è un'altra opzione? Dice Moody. Se questo esperimento ci dimostrasse che il tempo non si muove solo in avanti come siamo abituati a credere se dimostrasse che il tempo si muove all'indietro Rosa e Margherita sarebbero così intrecciate che quando qualcuno le tocca nel presente la loro reazione si realizzerebbe tramite un viaggio nel tempo tornando al momento prima che Rosa e Margherita fossero separate si scambierebbero informazioni e i nuovi effetti tornerebbero al presente quando qualcuno le starebbe toccando. In questo caso il tempo sarebbe simile a un dipinto cubista non lineare organizzato nell'ordine a cui siamo abituati cioè passato, presente e futuro ma come una freccia con due punte una che va verso il futuro e una che va verso il passato. Wow, ok, incredibile! Ma cosa significa per noi umani? Anche per noi funziona questa correlazione? O è possibile solo a livello microscopico? Vediamo! Forse hai sentito parlare dell'effetto farfalla c'è anche un film di Hollywood The Butterfly Effect che parla di questo fenomeno. L'effetto farfalla racconta di come anche piccole azioni e cambiamenti possono avere enormi conseguenze nel tempo. La famosa frase che descrive questo fenomeno quantistico è il battito d'ali di una farfalla in Brasile può provocare un uragano in Texas. Naturalmente non dovremmo prendere questa frase alla lettera. È una metafora per descrivere quello che nel mondo della meccanica quantistica è conosciuto come teoria del caos. Ma cos'è la teoria del caos? E cosa c'entra con noi esseri umani? Forse sei arrivato a un punto della tua vita in cui hai dovuto prendere decisioni importanti tipo accetto questo lavoro in un altro paese o sposo l'amore della mia vita viaggio per il mondo per sei mesi o investo tutti i miei soldi nella start-up del mio migliore amico. Queste decisioni che definiscono la vita ci fanno chiedere se l'intero corso della nostra esistenza cambierà a seconda della nostra scelta. Se accetti quel lavoro significa che non sposerai mai l'amore della tua vita? Non necessariamente, giusto? Per molto tempo gli scienziati hanno discusso se esistano o meno il destino o il determinismo o se la vita sia essenzialmente caotica e imprevedibile. A seconda del ramo della scienza su cui vuoi scommettere puoi avere l'uno o l'altro. L'effetto farfalla o teoria del caos afferma che se modifichi anche minimamente le condizioni iniziali di una situazione i risultati saranno imprevedibili e caotici. Se stai guidando sulla strada che prendi ogni giorno per andare al lavoro ma decidi di svoltare a sinistra invece che a destra un numero infinito di situazioni potrebbe aspettarti. La teoria del caos direbbe che il destino o il determinismo non esiste. A livello umano significa che la vita che avresti se scegliessi di viaggiare per il mondo per sei mesi sarebbe completamente diversa dalla vita che avresti se sposassi l'amore della tua vita. Un ottimo modo per comprendere questo concetto è pensare al tempo atmosferico perché le previsioni del tempo di solito sbagliano perché dicono che avremo una settimana di sole ma a metà ci ritroviamo con forti piogge perché è estremamente difficile identificare con precisione le condizioni dell'atmosfera quindi è quasi impossibile fare previsioni precise su di essa. Ricordi quando abbiamo detto che anche piccoli cambiamenti nelle condizioni iniziali possono alterare completamente il risultato? I computer possono essere in grado di fare previsioni approssimative per uno o due o tre giorni ma dopo questo periodo la distanza tra la realtà e quello che è stato previsto diventa troppo grande. Ma gli scienziati hanno anche giocato con l'idea che la vita sia predestinata o determinata. Questa idea era la più accettata fino all'arrivo della meccanica quantistica e dei suoi esperimenti. L'esperimento più famoso che difendeva l'esistenza del destino è noto come Demone di Laplace. Lo studioso francese Pierre-Simon Laplace suggerì che se fossimo in grado di conoscere la posizione precisa e la velocità di ogni atomo nell'universo saremmo in grado di prevedere le traiettorie passate e future. In altre parole se potessimo individuare le coordinate esatte di un atomo saremmo in grado di inserire queste informazioni in un computer il quale ci fornirebbe tutte le possibili traiettorie per quell'atomo. E se quell'atomo fossi tu il computer potrebbe prevedere tutte le possibili linee temporali che potresti sperimentare in questa vita. Non ci volle molto prima che la teoria di Laplace fosse confutata. È impossibile trovare con precisione la posizione esatta di un atomo. Questo ci riporta alla teoria del caos e alla difficoltà di individuare le coordinate esatte di una particella nel tempo e nello spazio lasciando spazio all'imprevedibilità. Accidenti! È molto da assimilare, vero? E gli scienziati credono che esista anche una via di mezzo che la vita possa essere sia deterministica che non deterministica allo stesso tempo. Possiamo riassumere tutto con una famosa citazione di Nehru La vita è come un gioco di carte quelle che ti vengono distribuite è il determinismo ma il modo in cui le giochi è il libero arbitrio. Cosa ne pensi? La vita è come